siamo sull'isola di insedum e stiamo andando a vedere il mar baltico fare un tuffo nel mar baltico qualcosa di eccezionale questa è la pinetta nord europea che fate? come vedete non c'è neanche una cartaccia in terra nessuno lascia niente ed ecco il mar baltico grazie 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 sull'isola di insedum questo è il mar baltico di fronte a noi la svezia